buongiorno amici buongiorno amiche finalmente su amazon è uscito qualcosa di nuovo noi l'abbiamo comprato e testato per voi questo è il dongle che oggi andiamo a provare wireless video carplay adapter che cosa di particolare lui che nel momento in cui lo inserite nella vostra autoradio autoradio che deve essere dotata di carplay via cavo vi apparirà questa schermata questa schermata vi apparirà anche se voi non avete collegato via bluetooth lo smartphone al dongle quindi lo inserite nella porta usb e subito vi apparirà questa schermata lui non mi piace a vedersi quindi visivamente non è di mio gradimento però è soggettivo vedete è abbastanza grandicello c'ha questa luce blu è tutto lucido non ha pulsanti di sorta vedete è abbastanza grandicello sta così appeso alla porta usb a me sinceramente non piace io ultimamente preferisco dongle come questi a forma di pennetta però magari a voi piace o magari voi avete una porta usb messa in una posizione scomoda dove magari la pennetta non entra allora questi dongle essendo più flessibili sono sono da consigliarsi comunque al di là dell'estetica che non è la cosa più importante in questi dongle parliamo del funzionamento quindi lo abbiamo inserito non l'abbiamo collegato allo smartphone ma comunque ci appare questa schermata l'automobile ci dirà che è stato collegato un dispositivo apple carplay ma in realtà così non è perché io non ho collegato lo smartphone ho solamente inserito questo dongle ripeto per l'ultima volta la vostra automobile deve essere dotata di carplay via cavo allora che cosa fa lui vi renderà carplay wireless se utilizzate quest'icona ma io non ho iphone e quindi non in nessun modo potrò collegarmi via wireless quindi vi faccio solo vedere voi andrete a cercare con il bluetooth questo questo device lo accoppiate al vostro iphone e a quel punto avrete carplay via wireless se invece come me non avete un iphone non potete collegare il vostro android a questo dongle quindi lo utilizzerete questo dongle solo come collegato alla vostra macchina per vedere youtube e netflix vedete quindi senza essere collegati allo smartphone voi nella vostra automobile potrete avere youtube e netflix anche tik tok per per chi lo utilizza io non lo utilizzo chi gli dà a youtube la connessione gliela dà la wifi della mia automobile oppure glielo date con il tethering del vostro smartphone perché il vostro smartphone android non è collegato in questo momento ad android auto quindi ha la wifi libera quindi potete dare tethering allo smartphone andiamo a cercare qualcosa su youtube vi ripeto che sono collegato alla wifi del mio smartphone vedete adesso partirà la pubblicità perché è una versione di youtube è una versione di youtube non curata però comunque youtube c'è funziona discretamente e funziona anche mentre voi siete in automobile siete in movimento va bene poi torniamo alla home per chi ha un account netflix potrà utilizzare netflix anche durante la guida vedete non è un fulmine però funziona io credo che abbia uno massimo 2 gigabyte di ram tornando alla home per chi ha l'account netflix si collegherà a netflix punto fine però un'altra cosa un'altra cosa che vi faccio vedere sono le impostazioni quindi qui potete scegliere la lingua qui lo potete collegare al vostro smartphone che fa tethering oppure come nel mio caso alla sim presente nella mia automobile quindi lui non ha la possibilità di inserire una sim ma i dati gli darete o col vostro smartphone facendo tethering o attraverso una sim una saponetta che vi portate in in auto ok altre impostazioni vedete qui su sistema abbiamo qualche piccola impostazione niente di che qui vi fa aggiornare youtube e netflix vedete infatti a me propone l'aggiornamento di youtube perché le uniche app installate sono netflix youtube e tik tok vi volevo far vedere ecco qui le scarne informazioni sul sullo smartphone qui mi sembra di capire che ha un android 12 ma non ne sono certo credo di sì non sono molte le informazioni qui per cambiare i nomi al dispositivo ma non lo cambiamo vediamo se mi fa entrare in qualche modo in modalità sviluppatore non mi pare perché un amico del canale telegram android auto mi faceva presente che se si riesce qui a entrare in modalità sviluppatore poi si può attivare il debug wireless e eventualmente collegando via adb questo dongle in modalità sviluppatore questo dongle in modalità sviluppatore debug wireless al vostro pc è possibile installare altre apk altre applicazioni oltre a quelle che sono installate però a meno a parte che a meno non mi sembra possibile vediamo un po se è apparsa la merita sviluppatore no non mi pare proprio comunque amici al di là di questi tecnicismi se qualcuno di voi riesce ad installare delle app utilizzando la modalità sviluppatore me lo potete scrivere nei commenti però al di là di questo lui questo questa funzione serve per pulire la memoria ram allora lui con un prezzo abbastanza contenuto sotto i 100 euro e a volte anche sotto gli 80 euro vi permette di avere youtube e netflix in movimento anche senza collegarlo anche senza collegarlo allo smartphone purché la vostra radio abbia carplay via cavo youtube in movimento come sapete è una funzione che non ha android auto che per utilizzarla bisogna avere appunto questi box che però hanno prezzi che vanno dai 100 200 300 euro se volete spendere poco e avere youtube e netflix in movimento secondo me lui è una buona una buona soluzione sicuramente un qualcosa di innovativo che fino ad oggi non c'era sul mercato se però voi avete anche bisogno di collegarvi ad android auto wireless bene lui questa funzione non ce l'ha questa funzione ce l'ha lui però con lui avrete solo android auto wireless senza youtube senza netflix con lui invece avrete youtube e netflix in movimento non android auto wireless quando uscirà questo box che oltre a carplay wireless ci darà l'icona di android auto wireless allora avremo un ottimo prodotto che avrà un prezzo contenuto quindi una piccola innovazione un prodotto che appunto è uscito su amazon italia che noi recensiamo in anteprima che ho pagato e quindi posso dire il cavolo che mi pare tanto l'ho pagato e vi dico che per chi vuole youtube e netflix in movimento senza tanti sbattimenti questo è sicuramente un dongle interessante ci sono anche gli aggiornamenti OTA e sono semplici da fare vi metterò in descrizione i video il link la guida che ho fatto per fare questi aggiornamenti OTA direi che abbiamo visto abbiamo visto tutto non mi dilungo oltre se avete delle domande potete farle nel box dei commenti se vi iscrivete al canale ci supportate e ci permettete di fare altri video come questi ciao a tutti